La città di Assisi celebra Riccardo Franca Lancia e più in generale il realismo magico con la mostra Una profondissima quiete, Franca Lancia e il ritorno alla figura tra De Chirico e Donghi. Un universo incantato, così è definito quello che si rivela attraverso una selezione di capolavori provenienti da musei, fondazioni, istituti bancari e collezioni private per riportare all'attenzione del pubblico una delle correnti più poetiche e suggestive dell'arte del Novecento. Nel centralissimo Palazzo Bonacquisti, di proprietà della Fondazione Perugina, è stata inaugurata dunque l'esposizione di oltre 130 opere tra pitture e sculture, aperta al pubblico fino al 4 novembre, curata da Vittorio Sgarbi, Michele Dantini e Beatrice Avanzi, voluta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Perugia e organizzata dalla Fondazione Cari Perugia Arte. Fran Calancia è uno dei meno conosciuti fra gli artisti della scuola romana, ma è forse il più poetico, è un poeta della natura, è un poeta del paesaggio. La definizione di realismo magico che vale per alcuni artisti, per lui è la natura stessa della sua opera all'interno di un percorso che inizia con valori plastici, cioè un movimento, una rivista, un gruppo di persone che guardando De Chirico, che è il primo che si ribella alle avanguardie, e ritorna alla pittura classica italiana, decide di ricostruire la figurazione, di portare lo spazio nella dimensione che era stata di Beato Angelico, di Basaccio e allora per diverse posizioni, Rosai, Schiltian, Franca Lancia, rappresentano questa figurazione con riferimenti a un passato che loro eleggono. Il passato di Franca Lancia è il passato di Giotto, Assisi, lui è nato di Assisi, è la città di Giotto e l'idea di ricostruzione della forma e della figurazione parte di lì e quindi è come se fosse un Giotto rinato con paesaggi meravigliosi, pieni di incanto e con un realismo magico che è appunto il realismo delle cose che sono entrate nel sogno uscendo dalla realtà. Alla presentazione della mostra di scena, fino a novembre, sono intervenuti il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Giampiero Bianconi, con la vicepresidente Cristina Colaiacovo, il presidente della Fondazione Cari Perugia Arte, Giuseppe De Pretis e il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, all'inaugurazione, seguita la visita in anteprima dell'esposizione con la presenza dei curatori. Siamo molto soddisfatti del risultato, di essere riusciti, questo era il progetto, il proposito iniziale, di essere riusciti a inserire un artista del realismo umbro, del realismo magico in un contesto nazionale, restituendolo alle sue relazioni, ai suoi rapporti, ai suoi interlocutori che erano letterati, romani e di altre città e ai pittori che sono quelli esposti con Franca Lancia in mostra. Quindi mi sembra che siamo riusciti in maniera abbastanza convincente, per noi molto soddisfacente, a restituirgli il respiro, che è un respiro almeno nazionale. Senza dimenticare anche relazioni che al tempo esistevano con artisti tedeschi che residevano a Roma, come Georg Schimpf, per esempio, che è sicuramente un interlocutore di Franca Lancia nella costruzione, più che dei paesaggi, direi, dei ritratti, di tanti ritratti graziosi e bamboleggianti, diciamo, dei figli di Franca Lancia dialogano con questo ritorno a un 300 d'invenzione che piace molto anche in Germania.